da notarini allargata ancora Maffei potrebbe concludere Maffei ci pensa e va buca l'intervento qui Castrucci passa in vantaggio allora il distretti ecologici 1-0 il gol di Maffei è sempre russante a ricevere sfera allargata per nobile che non arriva ancora la conclusione è il pareggio immediato del Roma-Visnova ha trovato il gol su questa bella conclusione sale il 4 viene affrontata a distanza poi la palla allargata vediamo se arriva la conclusione si la palla entra in perfetto stavolta l'altro estremo di pensiero ovvero Frisulli arriva il vantaggio per il Roma-Visnova con il gol di Moccavini numero 5 al giropalla del Roma-Visnova che vuole aumentare il proprio vantaggio la palla è fuori per Di Rosa allargata e arriva il 3-1 con Moccavini l'ha messa sotto l'incrocio sono 3 allora i gol per la formazione di Cassi possesso con Di Rosa che cambia lato da questa parte con la sfera che è centrale e col tentativo che finisce in porta da parte di Marconi 4-1 bella la conclusione da parte dell'undici la zona centrale del campo trova il 4-1 il Roma-Visnova di Ruzzante e buon anche il rilancio nelle zone di Muzzi che si gira e trafigge nuovamente Frisulli sono 5 gol del Roma-Visnova Fei pallone centrale dentro l'area di rigore sulla linea il salvataggio di Castrucci siamo già dall'altra parte con Calcopietro che è solo Calcopietro davanti al portiere come se fosse un rigore e non lo sbaglia sono 6 i gol del Roma-Visnova Calcopietro appena entrato porta più 5 il Roma-Visnova siamo già da questa parte pallone dentro Marconi la gira in porta 8-1 per il Roma-Visnova che sta dilagando pallone da questa parte prova ad andare al solito Fabri stavolta la palla passa sono due il gol dei distretti ecologici giropalla intenso dei distretti ecologici attenzione al primo palo libero e al gol di Fabri che accorcia ancora le distanze sono 5 adesso il gol di vantaggio del Roma-Visnova il gol di Fabri con Muzzi Barriale da questa parte pallone dentro la girata da parte di Duranti e sono 9 per il Roma-Visnova e la sirena si chiude 9-3 Roma-Visnova contro distretti ecologici nuoto Roma arriva l'ottava vittoria stagionale per il Roma-Visnova che va allora quota 24 in classifica si ferma nuovamente il distretti ecologici con la settima sconfitta registrata in stagione rimane ferma quota 8 punti braccata dalle inseguitrici lì in basso alla classifica è stata una bella partita giocata ad alti ritmi 4 periodi pieni di emozione siamo giunti alla fine da Manuel Spinella è tutto alla prossima